Un saluto a tutti gli ascoltatori da Mano e Mazzalini di Trebimetro e benvenuti alle previsioni a medio e lungo termine. Andiamo a vedere come potrebbe essere la seconda settimana di novembre, la perturbazione che dovrebbe portare a un peggioramento a metà della settimana, poi dovrebbe gradualmente allontanarsi, come notiamo dalla grafica, nel periodo che va dal 7 all'8 di novembre l'alta pressione potrebbe spandersi sul Mediterraneo centrale a partire dall'Europa sud-occidentale, portando tempo più stabile e soleggiato su gran parte della nostra penisola e con temperature che dovrebbero tornare ad aumentare. Non dovrebbe durare molto perché dall'Atlantico nuove perturbazioni scenderanno poi gradualmente di latitudine portando un nuovo peggioramento del tempo a iniziare dalle regioni settentrionali. Ma per maggiori dettagli comunque scaricate l'app gratuita di Trebimetro.